padre cascogna eccoci padre ma che se fa così guarda subito di parring gli vado guarda guarda ditemi se non sono un super pro ah c'erano i miei echi poi qua tra l'altro perché non mi fa la super mossa dovesse più vicino ah raga cioè ma se fa padre cascogna cioè non niente in confronto al chierico eccola qua sbra spacco il cuore di spacco padre padre e il padre sbra brutale si si the fuck si ma si è trasformato ma che cazzo stai a dire aspetta oh e questo lo parrio col cazzo è vero o no oh no però mi devi dare il tempo di fare le cose mi ha preso mi ha preso mi ha fatto malissimo padre si calmi padre mi ha preso peccate questa è fatta rega è fatta è fatta mori è fatta è fatta ma stiamo scherzando cioè stiamo scherzando veramente ma cos'è questa proagine che è uscita fuori tutta di un botto cioè first try world first volete spammare in chat per questo world first oppure no eh si vola cazzo daglie mamma mia che potenza che tenuta mentale che giocatore che giocatore accenderò anche la lanterna mi prenderò anche il check check sei meglio di me il che è tutto dire il che è tutto dire